Dopo il derby arriva un altro grande avversario, quella Juventus, capace di vincere gli ultimi 5 scudetti di fila, tutti i campionati praticamente in cui ha partecipato. Ci vorrà dunque una prestazione perfetta per portare a casa punti importanti, utili, per rimanere agganciati al treno delle prime 4 in classifica dall'Albino Leffe Stadium di Zanica. Un caloroso saluto e buon divertimento da parte di Francesco Specchia. Giuliani Spizzata di Piemonte per Aslani e arriva il vantaggio del Milan, il lampo di chi se non Kosovar Aslani? Milan 1 Juventus 0 La spizzata di Piemonte e la svernicciata di Kosovar Aslani che poi tac con la punta del piede prende in controtempo Aprile Di testa di Piemonte anche perché Aslani ha palesato una velocità fuori dal comune, sempre lì ancora lei, Kosovar Aslani! Boom boom 1-2 Kosovar Aslani, due gol in due minuti e arriva il raddoppio del Milan! Destro-sinistro, Kosovar Aslani mette all'angolo la Juventus! Tanto pallone in area a Piemonte e poi arriva la conclusione! Trova l'incrocio dei pali e la riapre Bonfantini! Bergamaschi cambia versante Sofia, di prima intenzione per Piemonte E arriva il gol! Piemonte in posizione regolare, segna subito il Milan, neanche un minuto! Piemonte torna il gol e il Milan torna più due, rosso-nere tre, Juventus uno! E' spettacolo all'Albino Leffe Stadium! Bonfantini, grande giocata, Bonfantini, Rosucci! La giocata di Caruso che passa! Bravissima qui a chiudere tutto Goscia! sempre pericolosa Dami pallone per lei, solissima, arriva Goscia! Secondo gol con la maglia del Milan! E cala il poker con un gol da attaccante d'ora di rigore Goscia! Non ci sono tanti spazi Gunnar Dottir Bonfantini Ancora Gunnar Dottir Traversone che quasi diventa un gol E lo fa invece Girelli E allora Cristi Guarda in mezzo il pallone Scivola! Adami Vuole lo spazio per calciare E dare un bacino all'incrocio! Colpo di tacco incredibile di Gunnar Dottir Per Julian Il pallone per Boatina Colpisce il palo la Juventus E arriva il gol della Juventus Ancora Girelli A 95esimo 4 a 3 E finisce qui Il Milan supera la Juventus 4 a 3 Per effetto della doppietta di Aslani Il gol di Piemonte E la quarta marcatura di Goscia Un caro saluto da parte di Francesco Specchia